Continua il lavoro della Virtus Francavilla sul fronte mercato, anche se i due principali obiettivi recenti però sono letteralmente sfumati. Il primo è Andrea Cittadino, suggestione dei biancazzurri per il centrocampo. Nelle scorse settimane c'è stato un contatto tra le società e l'entourage dell'ex centrocampista di Foggia e Bisceglie, che però ha preferito scegliere Gubbio per il suo futuro. Infatti l'esperto classe 94 ha firmato con il club Rosso-Blu un contratto che lo legherà per almeno un anno. Sfuma l'obiettivo cittadino per il Francavilla quindi che vede sfumare anche l'ipotesi petta per la difesa. L'esperto difensore ex Bisceglie Casertana nei prossimi giorni dovrebbe mettere nero su bianco con il bitonto e continuare così al Città degli Olivi la propria carriera, facendo tramontare definitivamente l'ipotesi Virtus Francavilla. Intanto stanno per terminare le vacanze dei calciatori con il pre-ritiro che avrà luogo dal 12 al 28 luglio presso lo stadio Giovanni Paolo II nel corso del quale verranno effettuati inoltre test medici e atletici. Dal 29 luglio all'11 agosto i biancazzurri effettueranno il ritiro in Abruzzo nel comune di Palena.